Ed arriva così, signori, a modi super surprise, questo matrimonio in gran segreto dove soltanto i paparazzi, quegli ben nascosti di Liva e Donna, sono riusciti ad arrivare e sono riusciti a vedere. Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati davanti ai familiari più stretti, quindi soltanto con pochi intimi, e con Diego, il figlio nato nel 2016. Praticamente dalla foto che è stata scattata, che è fuori uscita, una delle poche foto che sono riuscita a fare, si vede l'attrice amata dal pubblico, vestita con un abito bianco molto semplice ed elegante, con un bouquet di fiori tra le mani, questo è quel che si evince subito. Accanto a lei il marito Davide Devenuto che invece indossa un completo blu e una maglia bianca, e lui stesso in passato ha sempre ammesso che non si vedeva facilmente con un abito da matrimonio. A differenza di tanti colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo, i due hanno scelto una cerimonia dove all'insegna della privacy. Solo i fotografi sono riusciti a scattare poche foto e da lontano. Serena e Davide hanno voluto accanto a loro solamente le persone più vicine alla loro vita e che con loro hanno un legame particolare. I due si sono conosciuti 15 anni fa, sul set di Un posto al sole. Da quel momento non si sono mai lasciati, diventando genitori nel 2016 e condividendo i loro successi professionali. Nel 2019 Davide Devenuto aveva chiesto a Serena Rossi di sposarsi, poi però il matrimonio è stato rinviato per scelta di entrambi. Io e Davide stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso, ha più volte detto lei ammettendo anche di avere difficoltà a organizzare le nozze. Forse anche per questo motivo il matrimonio è stato lo profile soltanto con i familiari e gli amici di una vita. Una cerimonia sobria ma che riflette la scelta dei due di vivere la loro relazione lontani dai riflettori che invece fanno parte inevitabilmente della loro carriera professionale. Cari amici per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.